Perché dovete sapere, tu è inutile cariti, poi dobbiamo capire a te tanto, e che qui ognuno oltre che suonare uno strumento fa anche tante altre cose, qui oltre a suonare il basso fa la tromba e qui mi fermo. Dovete sapere che Giulio c'è anche un'altra caratteristica, aspetta, a una vocina, ma così dolce, che farete dei sogni meravigliosi questa notte. Prego, Giulio Rocca, un applauso di incoraggiamento. Finale! Grazie!